Ultima giornata di permanenza nello spazio 2 del Cardo Nord-Ovest Expo 2015 per la Regione Puglia. Una settimana intensa e ricca di appuntamenti, quella che si è conclusa. L'ultimo giorno si è aperto con l'appuntamento a Puglia Attraction, il progetto di attrazione investimenti dell'assessorato allo sviluppo economico che ha selezionato un pool di imprenditori e che mira la creazione di una rete di operatori di origine pugliese in grado di intercettare potenziali investitori, specie nei settori strategici dell'economia regionale. Gli otto imprenditori e manager provenienti da Belgio, Germania, Stati Uniti, Australia, Argentina e Sud Corea hanno visitato l'esposizione universale, in particolare il Padiglione Italia e lo Spazio Puglia, insieme ad una delegazione regionale preseduta dall'assessore allo sviluppo economico Loredana Capone. Una sfida importante che punta sull'alta qualità. Questo significa anche dare soddisfazione economica agli operatori che, innovando e crescendo in Puglia, hanno la possibilità di incontrare i migliori operatori internazionali e di stipulare accordi commerciali. Il nostro obiettivo è questo, dare un senso all'incrocio, alla relazione commerciale, quindi dare un senso economico forte ai rapporti tra le imprese pugliesi, che sono cresciute in altri luoghi, far loro conoscere l'eccellenza della Puglia, farle incontrare con il Made in Italy complessivamente e lavorare perché le relazioni commerciali in Puglia crescano. Questo richiede la sfida più importante, puntare sulla qualità, sull'alta qualità. Puntare sull'alta qualità significa anche dare soddisfazione economica agli operatori che, innovando e crescendo qui in Puglia, hanno la possibilità poi di incontrare i migliori operatori internazionali per stipulare con loro degli accordi commerciali. Il risultato primo, immediato, è stato questo. Da Chicago verranno otto grandi buyers statunitensi per lavorare sulla Puglia, per incontrare le imprese pugliesi. Questi buyers hanno come obiettivo la distribuzione di prodotti pugliesi. Ora saranno anche loro ad aiutare le nostre imprese a crescere, dicendo quali sono i loro obiettivi ed aiutandole a migliorare la qualità.